Io spero ci ripensano, hanno tempo fino a domani. Quella lettera che non ho ricevuto ma che ho visto sui giornali da parte dei tre, dei quattro membri di nomina cumulale è inopportuna, anche esgradevole, perché io rispetto la loro autonomia, la rispetterei comunque. In questo caso la rispetto anche formalmente perché è sancita dalla fondazione, dallo saluto della fondazione Monte dei Paschi, però autonomia non vuol dire indipendenza dal rapporto con chi rappresenta i cittadini della sua comunità perché altrimenti diventa autoreferenzialità, quindi rispondere solo a se stessi. E questo io non lo permette a nessuno, cioè tutti quelli che rappresentano il comune, che sia la fondazione o la società che gestisce l'acqua o i musei, hanno un dovere generale che è quello di almeno di sentire l'amministrazione che li ha nominati, il sindaco che li ha scelti perché in questo momento è in gioco il destino della banca. So che la fondazione ha un potere limitato ma finché ha un potere, finché ha un alito di voce per poter dire che il rapporto fra Siena e la banca non deve cedere, io li chiamo alle loro responsabilità. Loro non sono cronisti, loro sono protagonisti e quindi devono spendere, impegnare tutte le loro risorse sto parlando di impegno generale e non sto parlando di risorse finanziarie che hanno già impegnato in modo copioso e quindi va dato anche giustificazione a ciò che hanno fatto partecipando all'aumento di capitale perché questa è una partita dalla quale Siena non può rimanere fuori anche se i processi decisionali sono molto grandi e su questo abbiamo bisogno di far entrare in gioco altri soggetti a cominciare le regioni del governo.